Una casa dell'acqua nel rione Serroni e la richiesta presentata alla sindaca di Battipaglia Cecilia Francese dal movimento Pro Battipaglia, presieduto da Massimo D'Ambrosio. Alla base dell'istanza il sondaggio effettuato fra i residenti della zona che hanno mostrato grande interesse nei confronti di tale possibilità. Due i punti individuati per l'ubicazione della casa dell'acqua tra via Lazio e via Campania o in piazzetta Sant'Antonio nel cuore del quartiere Serroni.